Il modello F899 è contenuto in uno speciale packaging rinforzato, studiato per ospitare occhiali, kit lenti e naselli con supporto ottico per lenti oftalmiche. Il kit comprende le lenti realizzate in policarbonato a 2.2 mm di spessore antiappannanti, viola, gialle, rosse e marroni, per una visione ottimale in qualsiasi condizione di luce. Nella confezione sono compresi due naselli molto semplici da sostituire. Il primo è standard, il secondo invece è dotato di un supporto ottico per lenti da vista. La sostituzione delle lenti è semplice ed agevolata grazie al sistema brevettato di sgancio rapido.